Di Sante, voi chiedete di rivedere il modello dell'azienda Maiella Morrone, perché? Perché l'azienda Maiella Morrone è un'azienda decotta che ha accumulato debiti nel tempo e purtroppo sono dieci anni che noi sul territorio della Val Pescara vediamo la gestione clientelare di questo ente che purtroppo, stranamente, diciamo, a ricorrere di ogni campagna elettorale abbiamo visto gonfiarsi di dipendenti e questa cosa, diciamo, è particolarmente bizzarra e forse è una delle ragioni per cui oggi non si riescono a pagare lo stipendio dei dipendenti rimasti che sono tornati a 66 e ci sembra particolarmente bizzarro che invece di tutelare i servizi sociali e il lavoro, il lavoro buono, si voglia continuare a tenere in piedi di questo carrozzone clientelare e si annuncino, diciamo, dei salvataggi con il denaro pubblico della collettività. Noi chiediamo che ci sia intanto un'azione di trasparenza e di verifica dei bilanci e delle responsabilità di chi ha amministrato l'azienda negli anni, dei sindaci dell'Ambio 35 avevano il dovere di controllare, della comunità montana che aveva il dovere di controllare. Ecco, noi non vorremmo che dietro questo annunciato salvataggio dell'azienda Maiella Morrone ci sia il tentativo di salvataggio della giunta regionale stessa perché Donato Di Matteo attua l'assessore regionale, è stato direttore dell'azienda speciale fino a luglio 2014 lo stesso assessore Mario Mazzocchi è stato presidente della comunità montana quindi ci troviamo poi particolarmente grave che ci si faccia scudo dei lavoratori che vivono questa situazione di crisi per, come dire, nascondere quella banda del buco che è il Partito Democratico pescarese che è particolarmente incredibile che qualsiasi società ha gestito in questa provincia prodotto dei buchi non capiamo perché siano i cittadini a doverlo ripagare per quanto riguarda la tutela del lavoro e dei 66 lavoratori tutte le normative vigenti europee e italiane, come ha ribadito la CGL tutela i lavoratori, quindi deve essere garantita la continuità del servizio quindi quei lavoratori, chiusa la pagina dell'azienda Maiella Morrone dovranno essere riassorbiti da quello che sarà il nuovo gestore dei servizi sociali nell'ambito 35 Grazie